buongiorno visto che ora il mio canale youtube incomincia ad aumentare gli iscritti ho deciso di intraprendere una nuova rubrica ogni mese creerò un video come questo in cui chiederò consigli suggerimenti per creare nuovi video come sapete nel mio canale ci sono video più svariati affronto vari argomenti ho creato delle playlist dove trovate gli argomenti suddivisi per categoria le principali riguardano il punto croce e ricamabili e qui alcune di voi mi hanno chiesto un videocorso quindi prossimamente se sarete interessati farò un corso di punto croce qua con dei mini video su youtube fatevi sapere se questa cosa può essere di vostro interesse troviamo poi la sezione dedicata alla cameo della silhouette io alla cameo 4 e alcuni suggerimenti per quanto riguarda l'utilizzo di questo macchinario anche qua attendo vostre indicazioni se avete delle richieste particolari ho poi una playlist intitolata video utili dove ci sono dei video particolari che vanno a spaziare dal cucito a video utili per trovare delle caratteristiche all'interno del pc spaziano un po vari campi e qui siamo aperti a qualsiasi argomento attendo i vostri suggerimenti abbiamo una sezione dedicata al termo vinile sapete che utilizzo il termo vinile sciso e volevo ampliarla dedicando una sezione anche al vinile perché adesso la scisa l'ha creato anche il vinile e qua magari possiamo creare insieme dei video su delle tecniche che la vostra richiesta sezione che viene utilizzata di più è la sezione che riguarda ricamo macchina addirittura ci sono due playlist molto simili dove vado ad affrontare tutti quelli che sono i passaggi per avere degli ottimi ricami con la macchina ricamatrice che varia da macchina monoago più aghi eccetera però in sostanza il lavoro è sempre quello se avete dei suggerimenti delle tecniche particolari chiedete e creeremo insieme nuovi video infine abbiamo la sezione che riguarda il cucito creativo dove ci sono alcuni video come fare delle sacche come realizzare una buona lavaglia come fare dei suolini ciao video creati da me ma anche qua se avete dei suggerimenti sono stati ben accetti come potete capire il mio canale youtube spazio davvero in tanti argomenti perché le mie clienti mi chiedono davvero tante cose questo spazio dedicato in questo breve video mensile servirà positivamente per raccogliere i vostri suggerimenti per creare nuovi video perché d'ora in avanti il canale youtube sarà utilizzato molto più frequentemente e ho intenzione di creare ogni dieci giorni nuovi video apposta per soddisfare anche le vostre richieste se avete quindi suggerimenti o richieste particolari scrivetemi pure sotto nell'info box facendo le vostre domande a cui ci ero felice di rispondere e di creare dei video appositi per soddisfare le vostre esigenze insieme si possono realizzare davvero tante cose e aiutarsi l'un l'altro nella realizzazione di nuovi obiettivi come sapete io ho anche un oltre al canale youtube ho un sito internet www.loscrivigio.com dove trovate in vendita sia i materiali per le vostre realizzazioni che i lavori finiti eseguti da me in vendita quindi potete anche dare un'occhiata di tutto quello che sono in grado di fare per poi chiedere dei suggerimenti per aiutarvi nella stessa realizzazione sperando di fare cosa gradita attendo i vostri suggerimenti i vostri consigli le vostre domande e ci vediamo al prossimo video